Dici che non hai novità eclatanti da raccontarci, però insomma in un momento come questo poter anche parlare di clienti che continuano intanto a essere fedeli e soprattutto che incrementano il loro sforzo in comunicazione non è male? No, non è assolutamente male, anzi devo dire che rispetto a quello che sta succedendo non possiamo lamentarci. Abbiamo appunto avuto la riconferma da tutti i nostri clienti, alcuni hanno compreso la nostra richiesta e hanno accolto la nostra richiesta di un incremento di compensi determinato poi anche dall'aumento della mola di lavoro che ci veniva richiesto e quindi noi siamo soddisfatti in questo momento. Sbaglio a vedere un po' nel vostro segreto il fatto che riuscite a pescare dal mercato realtà che iniziano quasi timidamente ad affrontare la comunicazione, la pubblicità, il packaging nuovo eccetera eccetera, però poi li aiutate a crescere e questo è un fatto positivo. Ma sì, io credo che oggi come oggi la scelta che noi stiamo operando è quella di andare un po' a pescare, come stavi dicendo, nel mare delle aziende che non sono visibili perché questo ci dà un vantaggio competitivo. Come è ovvio, i grandi brand sono costantemente contattati da agenzie che chiedono la possibilità di fare presentazioni. Non che a noi non piacerebbe avere dei grandi brand e qualcuno in agenzia ce l'abbiamo, comincerà da tre per esempio, che seguiamo da sei anni. Però ci sono molte realtà che hanno una grande necessità di comunicare oppure aziende che nascono. Noi a volte siamo riusciti a intercettarle e questa è stata un po' la nostra fortuna perché siamo riusciti a crescere insieme a loro, a entrare, a conoscere bene l'azienda dall'inizio. Questo è una grandissima risorsa secondo me perché poi ti senti veramente parte di un successo, se di successo si può parlare e si creano dei rapporti molto stretti e si cresce insieme all'azienda. Chiaro che la cosa fondamentale è dimostrare immediatamente una grande abnegazione e una grandissima capacità di rispondere alle esigenze che cambiano e soprattutto essere molto molto professionali. Credo che queste siano caratteristiche che qui dentro ci sono sempre state. Aggiungerei efficaci perché probabilmente in realtà di questo tipo hanno bisogno di vedere subito i risultati dei loro investimenti. Sì, dipende. Alcune volte vogliono vederle subito ma credo che la cosa che questo tipo di aziende chiedono all'agenzia è la pazienza. Cioè capire che c'è un problema, condividere un progetto che è pluriennale e comprendere che bisogna lavorare passo dopo passo. Quindi non avere fretta di fare delle cose. Devo dire la verità che noi spesso e volentieri siamo un po' un freno, nel senso che siamo abituati a condividere davvero le strategie con le aziende. A volte forziamo un po' la mano perché riteniamo che soltanto la conoscenza profonda delle strategie di un'azienda possa consentire a un'agenzia di essere veramente utile all'azienda. E questo a volte fa sì che magari suggeriamo di aspettare a fare certe iniziative, di concentrarsi su altre, stupidata. Per esempio a volte capita che l'azienda senta la necessità di cominciare a comunicare e poi magari ci rendiamo conto che la distribuzione non è ancora adeguata e quindi si rischierebbe di creare una domanda che non ha poi un'offerta completa sul territorio e quindi ci sarebbe il rischio di disperdere un po' di risorse. Allora magari suggeriamo di comunicare attraverso altri canali e queste cose vengono molto spesso apprezzate perché è chiaro che all'agenzia fa piacere fare una campagna perché vuol dire visibilità, rivendibilità. Però credo che alla lunga paghi sempre questo. Il fatto che noi abbiamo dei clienti che, tra virgolette, durano molto in agenzia. Facciamo appunto alcuni nomi per calare il tutto in una dimensione reale. Io voglio dire innanzitutto che abbiamo una durata media di rapporto di sette anni con i nostri clienti che non è poco. Abbiamo ancora in casa il nostro primo cliente che è quindi con noi da quasi vent'anni, da quando siamo nati. Abbiamo dei clienti come la Bongren che è con noi dal 97, tre e con noi da, e questo è il sesto anno di rapporto. Devo dire che non è semplice perché è un cliente bersagliato da agenzie. La stessa veleda che abbiamo acquisito quattro anni fa dopo una gara si sta consolidando sempre di più. E quindi voglio dire, la mamia, dicevo, è vent'anni che è con noi e si è creato un rapporto tale per cui noi siamo fondamentalmente una sorta di mamia fuori sede. Tutta la parte della comunicazione fondamentalmente è gestita in totale autonomia da noi. Basta una telefonata all'inizio dell'anno, conoscere i programmi e gestiamo tutto dalla pianificazione alla creatività. Ed è molto bello questo, bellissimo perché si è creato un rapporto strettissimo con questo cliente. A questi clienti si è aggiunto Porto di Genova che invece è in fase espansiva con la realizzazione di una catena di franchise. Bravo, questo è una delle cose di cui parlavi prima. Noi siamo stati contattati da questa azienda quando, che si chiama Porto Turistico Camillo Luglio, in realtà poi adesso ci sono tutta una serie di società che sono nate attorno a questa iniziativa, quando fondamentalmente stavano ancora cominciando a costruire questo porto turistico che è a Sestri Ponente e che oggi è il porto più moderno d'Italia. E' chiaro che noi, avendo seguito tutta l'attività, abbiamo cominciato innanzitutto a comunicare a livello istituzionale, sia in Italia che in Europa. Dopodiché c'è stata la fase 2, quella commerciale, bisogna chiaramente vendere i posti barca. E adesso siamo alla fase 3, il porto è vivo e ha una serie di attività commerciali all'interno e di entertainment. E quindi la nostra attività è quotidiana, perché lavoriamo su tanti settori, seguendo ormai le molteplici società, almeno 4, che sono nate in questi ultimi 4 anni. E' un lavoro che ci occupa tantissimo, abbiamo praticamente 3 persone dedicate, ed è uno di quei casi. Siamo cresciuti con loro, il primo incarico che abbiamo avuto è stato quello di fare un banalissimo pieghevole attreante per cominciare a comunicare il fatto che stava nascendo, all'istituzione, abbiamo parlato poi i comuni, che stava nascendo un nuovo polo portuale. E da lì invece è venuto fuori quello che è venuto fuori. Oggi noi abbiamo il desiderio un giorno di scrivere un libro su questa cosa, perché il lavoro che abbiamo fatto è complessissimo. Siamo arrivati addirittura a contribuire al design delle divise, ad occuparci anche, a dare il nostro contributo per quanto riguarda per esempio gli arredi del J-Class Café, che è un wine bar molto di lusso. Lì è tutto un polo del lusso comunque, perché stiamo parlando di un porto turistico che ha posti barca fino a 100 metri, quindi il posizionamento è già evidente. E poi attorno a questo mondo ci sono nate una serie di iniziative anche di carattere immobiliare che noi stiamo seguendo e quindi è diventato un cliente importantissimo. Non passa giorno senza che ci siano uno o due brief di progetti da portare avanti, quindi è interessante. Mi viene da dire che siete una sorta di talent scout per il mercato della comunicazione, cioè andate a scovare coi talenti ancora inespressi che però possono dare grandi soddisfazioni. Com'è farlo in questo periodo di mercato in cui la crisi sembra essere a U anziché a V? Come farlo? Con tanta attenzione andando a fare delle analisi sulle aziende e cercando di concentrarsi su quelle non conosciute innanzitutto e chiaramente andando a contattare aziende che operano in mercati che comunque oggi non sono in crisi perché quello è abbastanza fondamentale. E poi ci vuole anche tantissima fortuna perché spesso e volentieri è il sentito dire. L'amico dell'amico che dice sai ho un amico che lavora in una società che sta iniziando a fare un certo tipo di attività, ti fai dare il contatto e poi speri che arrivando di fronte all'interlocutore in quella mezz'ora che ti è concessa sei capace di fare breccia e di mostrare di avere una struttura alle spalle di grande professionalità e poi insomma quello che conta è molto l'intuitus persone perché noi non vendiamo un prodotto fisico, vendiamo consulenza e la consulenza purtroppo ha necessità di un fattore fondamentale, la percezione da parte dell'interlocutore di avere a che fare con della gente in gamba perché poi dopo quello che sai fare lo puoi dimostrare solo facendolo e non lo puoi raccontare, noi potremmo raccontare che siamo bravi, belli, reattivi, creativi, strategici ma lo dicono tutte le agenzie e poi la quotidianità che dimostra se lo sai fare o no. Qual è il settore oggi che per voi sembra essere più fertile alla vostra semina? Tutti si stanno buttando sul lusso, è chiaro che da un certo punto di vista a noi piacerebbe perché il lusso è gratificante però fondamentalmente credo che oggi noi non abbiamo una preferenza, a noi piace comunicare, piace dare il nostro contributo e dico una bestialità, forse mi piacerebbe lavorare in un settore molto in crisi per aiutarlo a venire fuori dalla crisi sarebbe una sfida molto più divertente perché guidare una squadra vincente è facile invece di riuscire magari a salvarsi con una squadra che è piccolina, non ha risorse diventa forse meglio più difficile, più divertente, più entusiasmante, più gratificante che vincere uno scudetto con una grande squadra quindi poi benvenga anche la grande squadra se ci vogliono far allenare il Manchester United ci sentiamo pronti a farlo grazie grazie